come state ragazzi sono simone e oggi sono qua con un nuovo video routine mi sono che non ci vediamo perchè tutti i video che avete visto fino ad adesso erano registrati li ho registrati un mese fa perchè sono appena tornata dalle vacanze come si può ben notare dalla mia abbronzatura so che sembra arancione tipo auto abbronzante poraccio in realtà no raga è tutto vero è tutto vero sono stato in vacanza a dubai a pescara veramente troppo top e quindi ho voluto girare la morning routine già in ultima mi avete chiesto di girarla io so che è una morning routine un po' particolare ho detto ciao la facciamo e sticcavoli ci ho messo un botto a editare questo video quindi mi raccomando lo dico sempre ho un morning routine quindi mi raccomando spolliciate se questo è tipo un oggetto di video vi piace così almeno ne farò altre altre magari anche quella scolastica eh che dite che ho ancora 3-4 video per il deck to school tra cui anche un video ask dove risponderò a tutte le domande sul liceo artistico, disegni, moda, università e tutto anzi se avete altre domande fatemene qua sotto anche se ne ho già un botto perchè ve ne avevo già chieste ai tempi del video reaction musical italiani se non erro quindi ho un sacco di domande per cui rispondere verrà un video lunghissimo quindi nulla oggi vi mostro questa mia summer routine di Dubai un posto fantastico e raga dovete andarci anzi se voi ci andate scrivetemelo che vengo pure io veramente niente è un po' proprio una morning routine molto relax infatti la mattina era piuttosto rilassante e tranquillo mentre poi dal pomeriggio casino perchè sono andate una volta al deserto una volta all'acqua park e atlantis una volta al Dubai mall, una volta all'acquario, una volta di qua e di là sono stati 9 giorni, 10 giorni impegnatissimi però più o meno la mia morning routine era sempre quella mando un bacione enorme a paola.oriente che mi ha chiesto di salutarla e me l'ha chiesto su direct ti mando un bacione enorme e mando anche un bacione enorme a Irene trattino basso 2704 ti mando un bacione enorme che lei mi ha chiesto appunto di fare una morning routine poi vabbè io ho scelto di Dubai però me l'ha chiesto lei e ti mando un bacione enorme mi raccomando cliccate la campanellina che è vicino a te la sua iscriviti cliccatela perchè altrimenti non ricevete mai, mai la notifica dei miei video e nulla, seguitemi sempre su Tinder, su Snapchat, su Musical.ly, su Instagram quindi vi mando un bacione a tutti e vi lascio al video e poi vi mando un bacione a tutti e buongiorno appena sveglio purtroppo utilizzo subito il cellulare anche se non farebbe molto bene rispondo a tutti i messaggi dei miei amici su WhatsApp guardo YouTube, Facebook, i vostri direct guardo un po' i commenti dei video subito dopo apro le tende c'è una vista pazzesca da qua veramente a parte lo stendino però vabbè non riuscivo a toglierlo e poi vado in bagno bagno time mi lavo i denti, la faccia così mi sveglio fin da subito poi naturalmente il letto non lo rifaccio mai quando sono in vacanza non lo rifaccio mai non lo rifaccio mai non lo rifaccio mai non lo rifaccio mai Grazie a tutti. Ho fatto veramente un sacco farmi un bagno in piscina anche solamente di 5 minuti, mi era veramente super fantastico, super rilassante. Questa cosa veramente mi dava sempre un sacco di energia, un sacco di carica. Dopo per la colazione invece andavo da Starbucks che c'era un must proprio. A parte qua che hanno al posto che scrive Saimon, hanno scritto Chaimon, vabbè, che usano un nuovo Pokémon. E niente, prendevo il frappuccino al cioccolato col ghiaccio e una brioche al cioccolato. Ciao! E allora ragazzi, questa morning routine super rilassante, tranquilla, finisce qui. Questo è il mio look finale. Sono pronta adesso per affrontare un'altra giornata in questo posto meraviglioso. Io vi mando un bacione a tutti e buona giornata. Ciao ciao!